Eros Ramazzotti, icona della musica pop italiana, ha raggiunto un traguardo importante il 28 ottobre di quest'anno, i suoi 60 anni. Un'occasione per fare un viaggio nel tempo, tornando agli anni 80, quando era un giovane talento che incantava il pubblico con le sue canzoni d'amore. La sua carriera è stata arricchita da collaborazioni con artisti internazionali del calibro di Tina Turner, Andrea Bocelli e Anastasia. Questi duetti, spesso cantati in diverse lingue, hanno contribuito a renderlo un simbolo della musica leggera italiana in tutto il mondo. Il successo di Eros Ramazzotti non si ferma alla musica. Quest'anno ha intrapreso un tour che ha attraversato l'Europa e ha fatto tappa oltreoceano, dimostrando che il suo fascino è ancora intatto. Ma la sua vita personale ha sempre attirato l'attenzione dei fan, che hanno seguito con passione le sue vicende sentimentali. Ramazzotti è stato spesso al centro dell'attenzione per i suoi amori e relazioni, lasciando un'impronta indelebile nella storia della musica italiana. In definitiva, Eros Ramazzotti è un'icona della musica pop italiana, che, con il suo talento e la sua personalità affascinante, continua a conquistare il cuore di migliaia di fan in tutto il mondo.